Magabone, ti sei svegliato, ti sei svegliato Eh sì, io poi aspetto a mandarti il video Perché voglio che prima ti svegli Almeno so che ti stai riposando bello tranquillamente E poi ti invio i video Capito? Come ti senti dopo che hai mangiato? Ti senti tutto bene? Un leone ti sento? Vabbè ma tu lo sei? Eh, te l'ho sempre detto che sì Che sei un leone Eh, ma è giusto che sia così E ora sto uscendo, sto andando a fare un caffè La verità, ora sto andando pure alla posta Perché ha chiamato Mimì da Milano E ha detto il discorso del 26 E dice no, è giusto che io debba lasciare tutto questo Perché non posso più gestire Cioè, ma si trova lui da sopra Vabbè, poi sinceramente non ho cosa ha detto Non so cosa ha detto di preciso, insomma Eh, magari si senti tanto E lei te lo spiega più nel dettaglio Eh no, ti sto dicendo, sto andando alla posta Perché se veramente poi il 26 dobbiamo salire E ora sto andando a vedere per fare un prestito Eh, se ci vogliono i soldi, cuore mio E non possiamo poi fare Allora, ora mi preparo E vediamo un po' cosa mi dice questo qua dalla posta Capito? E si prende un po' di soldi Che se devo andare a Milano Dobbiamo andare là Quindi non so come fare Allora, magari facendo una cosa del genere Magari ho disponibilità personale E posso affrontare il tutto Vabbè Oh, e niente Ci sentiamo dopo Vado a farmi sto caffè E vediamo un po' Se non c'è troppa confusione Vabbè Sicuramente quello Ciao Quello sicuramente Sbucherà da qualche parte Vabbè Comunque, cuore Io sono dell'idea Che Comunque alla fine Lo dobbiamo allontanare Con Io dico con 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 le buone maniere Almeno quella è sempre stata la mia Cioè la nostra intenzione Più che altro Penso che prima o poi Lo capirà Vabbè Vediamo poi al massimo Non appena esci di lì Vediamo Come ci dobbiamo comportare Beh Babbo Beh, cuore mi Ci sentiamo tu Mi raccomando Eh Fai tutte le cose che devi fare con tranquillità Va bene No, sto dando un'occhiata Ma Manco l'ombra si vede Beh Ciao, cuore mi Ciao Ciao, voglio Ciao, fratelli Ciao Il cuore mio fratelli Un abbraccio forte forte E Un bacio E salutami Dai un abbraccio A suo ragazzo Ok Ciao Cuore mio Ciao 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 Grazie.